Ciao a tutti, faccio questo video per il semplice fatto che ho ricevuto delle richieste molto garbate, molto gentili, ma ho fatto questo video per spiegare e anche se ci saranno in futuro altre persone che intendono pormi questa domanda, chiedermi un parere, sappiano già la risposta. Ovvero che io non accetto di leggere manoscritti inviati a me, ma per diversi motivi, non tanto per cattiveria, perché penso di essere una persona fin troppo buona a volte, ma per diverse ragioni. Allora, innanzitutto per il fatto che comunque banalmente, cioè proprio sembrerà una risposta da stronzi, ma banalmente non ne ho voglia. Ma, e sembra una risposta da stronzi, no? Però per il fatto che comunque non lavorando nell'editoria io voglio leggere ciò che voglio leggere, in sostanza. Se mi si impone una lettura, diciamo, non è un'imposizione, perché comunque finora le persone che me l'hanno chiesto me l'hanno chiesto in modo molto pacato, molto gentile, molto cordiale, e disposte anche al rifiuto. Però una lettura prende tempo, in sostanza. Una lettura, per quanto sia un hobby piacevole, proprio perché deve essere un hobby piacevole, e una passione, penso che si debba leggere ciò che si vuole. Io, non facendo il lavoro dell'editor, sento di avere il diritto di leggere ciò che voglio, in sostanza. Ma è anche una questione del fatto che proprio per questo motivo, se io mi sforzo a leggere una cosa che mi viene chiesta di leggere per darmi un parere, perché c'è il rischio che io non l'apprezzi, proprio perché mi è stata imposta. Ma allo stesso tempo, visto che la richiesta di lettura viene da una persona che dice di stimarmi, di seguirmi, se il manoscritto non mi piace, io farò fatica ad essere sincero. E quindi non voglio farlo, per questo motivo, perché il rischio è anche quello di dire che il manoscritto, sì, è carino, è bello, ma non è così. Ma allo stesso tempo mi vengono proposti dei manoscritti che proprio non si adeguano ai miei gusti, e anche un po' ci ricolleghiamo alle cose che ho detto prima, ovvero semplicemente il leggo ciò che ho voglia di leggere, in sostanza. Ma poi, a prescindere, nel senso... Io comunque, è vero che parlo anche di libri belli, però parlando principalmente di libri trash, di disastri dell'editoria, ma veramente volete chiedermi un parere, chiedere a me un parere sul vostro manoscritto? Mi sembra un po' come mettersi la zappa, tirarsi la zappa sui piedi, proprio papale papale, no? Nel senso... A meno che, non lo so, io credo che non accetterò mai, a meno che non mi date un consiglio, un consiglio di un libro, ma se mi chiedete di leggere il vostro libro, ma perché lo chiedete a me? Chiedete a una persona che fa questo di lavoro, se volete avere dei seri pareri, dei pareri veri e propri, o comunque... Sì, è vero che è inutile chiedere ad amici e familiari, perché ti diranno che il lavoro è bello anche quando non lo è, perché ti sono vicini, perché hanno paura a dirti la verità, ed è meglio puntare su una persona estranea che ama leggere e che è stimate, però, non per questo, c'è comunque una sottile linea di imbarazzo da parte mia, cioè io non me la sentirei di dire di una persona che mi chiede di leggere il manoscritto, di insultare il manoscritto, nel caso non mi piaccia. Nel caso mi piaccia, anche lì ci sarebbe dell'imbarazzo, però, perché se io dico in un video, in una recensione, mi hanno inviato il manoscritto, l'ho letto, mi è piaciuto tantissimo, cioè ma quanto può essere credibile questa affermazione, nel senso sembra quasi che io abbia apprezzato il manoscritto proprio perché avete scelto me per recensirlo, no? E quindi non lo trovo giusto anche nei vostri confronti, perché comunque non otterreste una credibilità, non otterrei una credibilità. Quindi l'idea è di farlo leggere, cioè io vi consiglio di farlo leggere o a dei conoscenti che sapete che sono anche stronzi nel giudizio, perché ci vuole, oppure vabbè comunque tentatela, ma non farò assolutamente, tentatela anche con me in caso, ma non farò mai recensioni di manoscritti che mi vengono inviati, manoscritti amatoriali che mi vengono inviati. Mi rifiuto categoricamente di farlo, e non è per una questione di stronzaggine, ma per le ragioni che ho detto. E detto ciò, spero di non avervi deluso, spero che capirete il mio punto di vista, e vi saluto. Ciao ciao!